Mentre prosegue la campagna vaccinale anti-covid in Abruzzo, nelle farmacie è possibile prenotare, ricevere la somministrazione di vaccino e ottenere anche il Green Pass. Da ieri 1 luglio è possibile prenotare le vaccinazioni anche nelle farmacie che hanno aderito all'accordo quadro della regione. A Pescara la farmacia Leva di Piazza Le Laudi ha già attivato questo servizio e dal 7 luglio potranno essere inoculati i vaccini Pfizer per gli under 60 e Johnson & Johnson per gli over 60, come conferma il dottore Marcello Alleva. Piazza Leva ha dato la disponibilità, ma soprattutto ha dato una disponibilità di partenza, qualcuno il 5, qualcuno il 6, qualcuno il 7. Quindi noi ci siamo riservati un paio di giorni così per avere la massima certezza di non avere problemi poi nell'accogliere persone e somministrare il vaccino. Per quanto concerne i vaccini e come li conserverete? Allora noi conserviamo i vaccini in frigoriferi che vanno da 2 a 8 gradi, che sono consoni alla conservazione di tali vaccini. Per cui per il Johnson non ci sono grossi problemi, per il Pfizer abbiamo la possibilità di mantenere il vaccino per un determinato periodo, non sicuramente molto lungo, in questi frigoriferi tra 2 a 8 gradi. Come avverrà la somministrazione all'interno di questa farmacia? C'è un'accoglienza che avviene all'interno e in parte all'esterno sotto alcune coperture che abbiamo predisposto delle utenze. Poi dentro la farmacia abbiamo creato un percorso che vede l'ingresso della persona e poi la facciamo accomodare qui che c'è un ambulatorio dove inoculiamo. Dopodiché li facciamo attendere nella parte dove metteremo delle sedie per la classica attesa 15-20 minuti oppure all'esterno perché la piazza si presta e intendiamo fare questa operazione sicuramente alle 8 di sera come chiudiamo la farmacia. Per lavorare a questo obiettivo i farmacisti hanno partecipato a corsi di formazione teorici e a sessioni pratiche di tutoraggio professionale da parte di medici e infermieri vaccinatori e sono preparati e pronti per le inoculazioni. L'inoculazione del vaccino la effettuo io avendo fatto il corso nel quale ci hanno attestato la possibilità di procedere in tal senso e naturalmente ho un amministrativo che mi aiuta semplicemente per la compilazione dei moduli. Sarà possibile ritirare in farmacia anche il Green Pass dopo la somministrazione della seconda dose? Sarebbe necessario darlo a chi l'ha effettuato completamente il vaccino, quindi prima e seconda somministrazione. In questo caso noi abbiamo anche attivato il servizio di tamponi rapidi naturalmente che ci sono stati forniti dai nostri depositi. Diamo una risposta a chi avesse bisogno di un Green Pass provvisorio, in questo caso da tampone effettuato per accedere a banchetti, cerimonie.